Chiara Marchitelli e Cristiana Girelli, Benji Price e Holly Alton sono loro due i pezzi pregiati che il Brescia Calcio Femminile si è assicurato in questa campagna acquisti. La ciliegina sulla torta è sicuramente la punta di diamante della nazionale italiana, ma soprattutto è Bresciana al 100%. Torni a casa. Sì, torno alla squadra della mia città e sono molto felice. Classe 1990, nata a Gavardo, veste per la prima volta la maglia del Brescia. Fino a 14 anni la punta bresciana ha militato nella squadra maschile del Nuvolera. Dal 2004 è entrata a far parte della Rosa del Bardolino Verona, con la quale ha vinto 4 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 3 Coppe Italia. Arriva al Brescia dopo aver disputato quest'estate l'Europeo in Svezia. Non penso di essere la ferra di questa squadra, devo dimostrare ancora tanto. È chiaro che c'è tanta responsabilità, ho tanta responsabilità addosso, spero di ripagare tutta la fiducia che mi stanno dando in campo. Chiara Marchitelli è invece la numero uno della nazionale italiana, della quale fa parte dal 2003. Nata a Roma il 4 maggio del 1985, in carriera ha vinto due Scudetti e due Coppe Italia. Perché hai scelto Brescia? Perché sentivo il bisogno di avere nuovi stimoli e quale posto migliore che Brescia. Una squadra giovane ma che negli ultimi anni ha voluto più volte provare a ottenere qualcosa di importante. Hanno vinto la Coppe Italia due anni fa, quindi ho voluto rimettermi in gioco qui. Due giocatrici che fanno ben sperare per la stagione del Brescia, che punta ora più che mai ai vertici della classifica.